Meg, che cosa è successo? Il ciccione e i suoi amici ubriachi mi hanno lasciato alla pista di schettinaggio. Non sarebbe successo se avessi avuto una macchina mia. Sai Peter, che Meg abbia una macchina sua forse non è una cattiva idea. Ah, sì, credo anch'io. Cosa? Sono mesi e mesi che insisto per avere una motosega, poi arriva lei e si cucca una macchina come niente? Io l'odio questo posto. Guarda tutti questi gipponi, che razza di idioti li guiderebbero mai? Ragazzi, è da paura questa macchina. Devo guardare Madagascar mentre sto guidando. Che genere di musica ti piace, Gloria? Hip hop! Woohoo! Bye baby! Quegli animali sono così c***o che mi viene voglia di fare la serpentina senza guardare. Sì, vai, Ransfield!